Il direttore dell'osservatorio del comune di Mercato San Severino, osservatorio sul disagio sociale, volevo comunicare che è stato attivato lo sportello sociale presso il centro sociale di Mercato San Severino, Marco Biaggi, e questo sportello sociale è attivo il giovedì dalle 16 alle 18 e 30 e il venerdì dalle 9 alle ore 12. Questo sportello sociale di ascolto, di orientamento e accompagnamento per i nuclei familiari e per quelle persone in condizioni di particolare disagio e nonché anche per la promozione di quello che è il benessere familiare e sociale. Tengo a precisare che questo sportello sociale e comunque lavora in stretta collaborazione con quelli che sono anche altri enti, altre istituzioni sul nostro territorio, come ad esempio l'ASL, i servizi sociali dello stesso comune, rispettando quelli che sono anche i canoni della privacy. Questo sportello sociale come progetto è quello di attivare una serie di servizi di accoglienza e di ascolto per persone che sono in difficoltà e anche un punto di riferimento per quelle persone che hanno bisogno di informazioni dettagliate e precise per quanto riguarda vari servizi che sono già presenti sul nostro territorio. Perché questo? Molto spesso le persone anche anziane non sono a conoscenza di determinati servizi che sono già presenti sul nostro territorio o quantomeno non hanno dei familiari che li possono orientare bene, accompagnare bene e tra l'altro molte persone non hanno internet o altri sistemi multimediali. Quindi molto spesso queste persone vivono questo disagio di come poter anche espletare delle richieste o delle pratiche per quanto riguarda ad esempio i bonus sociali, idrici, delle energie elettriche eccetera. Ora questo è un accesso agevolato ai servizi, dà delle opportunità non solo riferite a quelle che sono il nostro territorio, ma anche se ci sono altre opportunità. Tengo tra l'altro a precisare che abbiamo anche un collegamento con la Caritas di Ocesana, la quale comunque è ben strutturata con vari servizi. I benefit per quanto riguarda poi quello che è la nostra amministrazione sono prima di tutto un'immagine positiva di quello che è l'ente che rappresenta e quindi un reperimento anche di dati significativi e indicatori per quanto riguarda i bisogni del nostro territorio, ma anche per avere una corretta informazione per quanto riguarda i diritti e i doveri del cittadino. Ora il rapporto che si vuole costruire è un rapporto sicuramente di una costruzione di fiducia tra cittadino ed ente, una connessione e ottimizzazione di quello che è anche il patrimonio, di tutte quelle che sono le informazioni presenti e anche che è un risparmio di tempo a medio e lungo termine in modo tale anche da sgravare quello che è il lavoro anche delle assistenti sociali del Comune. Certo noi non ci sovrapponiamo né tantomeno sostituiamo quello che è il lavoro che è già esistente sul territorio, ma non facciamo altro che migliorare questo servizio in modo tale di avere una più rapida informazione, corretta informazione, perché molto spesso le persone non essendo correttamente informate hanno queste difficoltà anche nel fare delle richieste in modo giusto e anche nei tempi giusti previsti. Quindi anche per costruire sul nostro territorio una rete di collegamenti anche con le nostre frazioni, perché a breve poi grazie anche all'assessorato e alle politiche sociali, diretta dall'assessore dottor Albano Giuseppe, per quanto riguarda anche l'attivazione poi di altri punti di ascolto in molte frazioni, perché il nostro territorio ha molte frazioni, circa 20-21 frazioni. Questo dà la possibilità di uno stimolo di crescita, di intesa, di miglioramento, ma anche di aggiornamento, anche quello che possono essere le nuove opportunità per i giovani, ad esempio attraverso vari corsi di formazione gratuiti, elargiti dalla regione Campania, attraverso gli enti di formazione e orientamento, e anche per la creazione di una rete con altre associazioni affinché si collabori per la costruzione di una rete solidale che abbia l'opportunità a tutti di poter esprimere i propri bisogni e di crescere insieme alla collettività. Grazie.